Crizzia Corvaia e Paolo Ciavarro festeggiano i primi due mesi del loro piccolo Gabriele nato il 19 febbraio scorso. La bella siciliana e il figlio di Eleonora Giorgi sono pieni d'amore per il figlioletto che diventa sempre più bello. Per l'occasione hanno preso una torta e dedicato parole speciali al loro cucciolo. Grazie a tutti.